Musica Lunghe trattative sulla manovra verso la fiducia ad un maxi emendamento del governo, ipotesi stralcio per 23 norme, il voto entro venerdì a Montecitorio e il 29 dicembre al Senato. Esplosione in un gasdotto russo in Ucraina, il prezzo del gas si impenna del 6,6% a 115 euro dopo aver toccato in mattinata i minimi da giugno sulla scia dell'accordo UE sul price cap. Via libera della Commissione europea all'Italia per il piano di sostegno da 23 miliardi alle imprese per la crisi ucraina, aiuti possibili per tutto il 2023. Natale è caldissimo, 7-8 gradi oltre la media, sarà estate al sud, tutto esaurito nelle città d'arte, in viaggio nel paese 17 milioni di italiani e oltre 5 milioni di stranieri. La cultura del trasporto e della logistica nel sistema paese stasera in Alice Channel Talk, in studio con Nicola Porro i viceministri Edoardo Rixi e Maria Teresa Bellucci. Buonasera, apriamo il nostro telegiornale con una notizia che riguarda il porto di Livorno, che nel febbraio del 2020 fu scosso da un'inchiesta giudiziaria che coinvolse imprenditori e i vertici dell'autorità di sistema portuale. Una vicenda che si è conclusa oggi con una decisione inequivocabile del Tribunale Labronico, tutti assolti perché il fatto non sussiste. Nell'inchiesta partita dalla Guardia di Finanza, che vide coinvolti il presidente dell'autorità portuale Stefano Corsini, il segretario generale Massimo Provinciali, l'ex dirigente dell'area De Manio e attuale segretario generale dell'autorità portuale di Ancona, Matteo Paroli, gli imprenditori Corrado Neri, Luca Becce, Costantino Baldissara, Federico Baudone e Massimiliano Ercoli, secondo i magistrati sarebbe emerso che l'utilizzo di banchine pubbliche avveniva in maniera continuativa con autorizzazioni in proroga trimestrale con concessione temporanea. Una pagina quindi finalmente chiusa con i chiarimenti inequivocabili sull'attività legittima e lineare svolta da dirigenti e imprenditori operanti nello scalo livornese. Veniamo ora alla politica interna. Rischiano di allungarsi i tempi per l'approvazione della manovra finanziaria alla Camera. Sono riprese nelle scorse ore le trattative sulle ultime modifiche da portare al testo dopo la riunione notturna della Commissione Bilancio, durata ben 11 ore, nel corso della quale non è stato approvato alcun emendamento. La prodo in aula, previsto alle 13 di domani, potrebbe dunque slittare di qualche ora per poi dare il via alla discussione generale. Il voto di fiducia sul provvedimento dovrebbe arrivare invece entro il prossimo venerdì, mentre l'esame del manovra è atteso in Senato tra il 27 e il 29 dicembre. Passiamo ora alla crisi energetica, a seguito dell'esplosione che nel primo pomeriggio ha colpito un gasdotto russo che porta il gas siberiano in Europa attraverso l'Ucraina, nella quale sono morte tre persone. Le quotazioni della commodity ad Amsterdam hanno subito una breve impennata del 6,6% per poi ritracciare leggermente attorno ai 110 euro a megawattora. Il prezzo del gas al TTF questa mattina aveva toccato i minimi da giugno, spinto al ribasso dall'importante intesa raggiunta ieri dai ministri dell'energia UE sul price cap al gas fissato a 180 euro. Un accordo politico sul quale si è espressa con grande soddisfazione il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La fumata nera era un lusso che questa volta l'Europa non poteva permettersi. All'ultimo miglio arriva l'accordo nell'Unione Europea sul price cap al gas, un tetto di 180 euro attivabile per 20 giorni a partire dal prossimo febbraio. L'intesa potrebbe anche colpire le casse di mosca. È un accordo inaccettabile che crea distorsione nel mercato. Reagiremo. Ha non a caso tuonato il portavoce del Cremlino, Dimitri Peskov. L'intesa è arrivata all'ultimo consiglio a fare energia disponibile per il 2022. La settimana scorsa i leader europei erano stati chiari. Il pacchetto energia, che comprende anche la piattaforma comune per gli acquisti del gas e la solidarietà tra i paesi membri in caso di emergenza delle forniture, va finalizzato. A metà riunione è arrivata sul tavolo l'ultima proposta di compromesso della presidenza cieca, che recitava così. Tetto al costo del gas, se il prezzo è l'ingrosso, supera i 180 euro per tre giorni lavorativi e sarà superiore di 35 euro al prezzo del GNL sui mercati globali. L'accordo raggiunto in Europa sul tetto al prezzo del gas è una grande vittoria italiana. È una vittoria costruita con molta pazienza, per la quale bisogna intanto ringraziare anche il governo precedente che l'aveva istruita. È una battaglia sulla quale l'Italia è andata avanti con determinazione e questo ha portato alla fine, nonostante ci fossero grandi resistenze, a portare tutta l'Europa su una proposta che eravamo stati tra i primi, se non i primi, a fare, che è un enorme segnale per le famiglie, le imprese italiane e europee e dimostra che quando ci si mette un po' di determinazione, un po' di caparvietà, i risultati possono arrivare. Sono molto molto soddisfatta, devo ringraziare il ministro Pichetto, il ministro Fitto che ci hanno lavorato, il ministro Cingolani che ci aveva lavorato prima e ovviamente adesso si tratta di monitorare per una effettiva applicazione del tetto nei tempi previsti in modo rapido. Le temperature superiori alla media registrate nei mesi scorsi in tutta Europa hanno ridotto notevolmente intanto la domanda di energia dei cittadini europei. Secondo i dati diffusi oggi dall'Eurostat nel periodo agosto-novembre i consumi di gas naturale nell'Unione sono diminuiti di oltre il 20% rispetto ai valori medi degli anni precedenti. Nello specifico in Italia il calo è risultato pari al 15%. Restiamo in Europa dove la Commissione UE ha dato il via libera a un piano da 23 miliardi per sostenere le imprese italiane in difficoltà a causa delle conseguenze della guerra in Ucraina. Nello specifico le istituzioni europee hanno approvato le modifiche a un meccanismo di garanzia sui prestiti che comprende tra l'altro oltre al rifinanziamento la proroga fino al 31 dicembre 2023 del periodo in cui possono essere concessi gli aiuti e l'introduzione della possibilità per le imprese energivore di ottenere garanzia a copertura del fabbisogno di liquidità. Apriamo ora un'ampia pagina dedicata ai trasporti e alla logistica. Hanno un valore di quasi 30 miliardi di euro i due progetti approvati oggi dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici al Ministero delle Infrastrutture. Entrambe le opere riguardano il mezzogiorno ovvero l'alta velocità sulle tratte Salerno-Reggio Calabria e Palermo-Catania che garantiranno nei prossimi anni collegamenti più celeri e scambi commerciali più efficienti. Entrambi i progetti sono parte integrante del corridoio della rete TNT scandinavo-mediterraneo che collega Palermo a Enzinki. Le gare saranno pubblicate entro la fine dell'anno. Intanto si è tenuto oggi un incontro tra il Vice Premiere Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e i commissari di ANAS per fare il punto sullo stato di avanzamento di altre opere infrastrutturali per evitare il rischio di definanziamenti. In totale riguardano 34 cantieri stradali previsti, 24 dei quali ritenuti prioritari. E proprio sulla necessità di accelerare i processi di infrastrutturazione nel nostro Paese si è centrato il nuovo talk di Alice Channel che andrà in rete questa sera alle ore 21 su tutti i nostri canali web. In studio moderati da Nicola Porro i Vice Ministri alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi e al lavoro e alle politiche sociali Maria Teresa Bellucci ma anche i Presidenti delle ADSP Andrea Annunziata del Mare Tirreno Centrale e Luciano Guerrieri del Mare Tirreno Settentrionale. E ancora il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e Guardia Costiera l'ammiraglio Nicola Carlone, il Presidente di Assoporti Rodolfo Giampieri, il Presidente di Anas Edoardo Valente e infine il Direttore ADM Agenzie Accise, Dogane e Monopoli Marcello Minenna. In merito il Vice Ministro Rixi è intervenuto proprio per mettere in risalto l'urgenza di ammodernare le infrastrutture viarie avvalendosi anche delle cosiddette infrastrutture immateriali quali le autostrade del mare. Posizione questa sostenuta anche dal Vice Ministro Bellucci che ha inoltre evidenziato l'esigenza di lavorare per la creazione di nuovi posti di lavoro e quindi attraverso interventi nella formazione. Ma ascoltiamo un estratto. È evidente che noi dobbiamo creare dei bypass per rifare da capo alcune arterie perché se no non oggi ma tra 15 anni, tra 20 anni rischiamo che quelle arterie siano non più operative. E su questo le vie del mare sono uno strumento che ci consente senza infrastrutturarci maggiormente da subito di poter scaricare milioni di camion. E su tutto la lunghezza del nostro paese. Noi quando parliamo di mettere in movimento l'Italia, beh, il binomio metterla in movimento trasporti e logistica è ovvio che è adesivo, sono due facce della stessa medaglia. Fra l'altro su questo tema proprio c'è un problema di posti di lavoro, cioè di assenza di lavoratori. Lì questo governo deve intervenire. Veniamo ora alla logistica legata ai trasporti marittimi, un 2022 che si chiude con risultati più che positivi, quello dell'autorità di sistema portuale, dei mari Tirreno Meridionale e Ionio. Un anno di rinascita in particolare per il terminal autovetture gestito da Automar, socio fondatore di Alis, che ha registrato una ripresa dei traffici pari al più 243% sul 2021. E proprio Automar SPA si è resa protagonista di un'importante iniziativa a sostegno dei propri dipendenti contro il caro energia. L'azienda leader nei servizi di logistica per l'automotive ha infatti deciso di elargire un bonus da 1000 euro a tutti i dipendenti per fronteggiare i rincari causati dall'inflazione. Altre notizie dal mondo Alis. L'anno che sta per concludersi è stato per la nostra associazione ricco di nuove importanti adesioni, tra cui anche una grande multinazionale come Amazon, che ha sposato pienamente l'idea di sistema lanciata da Alis e condiviso gli obiettivi per la sostenibilità ambientale, economica e sociale confermati da significative iniziative improntate alla solidarietà nel periodo natalizio. Perché la scelta è di entrare in Alis? Perché pensiamo che questo sia un consenso molto utile in cui ci siano le persone giuste per comunicare il nostro messaggio. Molto spesso Amazon viene vista come un'entità un po' astratta, invece in questa occasione ci sarà modo di poter spiegare molto bene qual è il nostro contributo alla nazione. Una vetrina messa a disposizione di chiunque voglia sostenere un ente del terzo settore attraverso Amazon.it. Si chiama Amazon for Charity Store ed è l'iniziativa lanciata dall'azienda dell'e-commerce a sostegno delle organizzazioni non profit, che attraverso questa vetrina hanno la possibilità di offrire i propri prodotti all'interno dello store, avendo anche a disposizione percorsi dedicati per gestire al meglio la propria presenza online, allargando così il proprio bacino di sostenitori. L'iniziativa, sottolinea Amazon, ribadisce l'importanza della sinergia con enti non profit, come il caso della collaborazione con AIRC, principale polo di finanziamento della ricerca oncologica indipendente in Italia. Una collaborazione, quella tra Amazon e AIRC, iniziata nel 2020 in pieno lockdown e che continua anche oggi. Buone notizie per il turismo italiano. Saranno oltre 17 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio tra Natale e Capodanno, prediligendo prevalentemente mete nazionali e località di montagna. Il giro d'affari supererà i 13 miliardi di euro, riportandosi sui livelli pre-covid con un incremento di oltre il 20% rispetto allo scorso anno. Inoltre saranno più di 5 milioni i turisti stranieri attesi nel nostro paese per le festività caratterizzate anche quest'anno dall'arrivo dell'alta pressione. Sarà infatti un Natale caldissimo, con oltre 8 gradi sopra la media del periodo e temperature quasi estive al sud, dove si toccheranno picchi fino a 25 gradi. E proprio a fronte delle condizioni meteorologiche favorevoli a Venezia, in vista dello spettacolo pirotecnico di fine anno, il Comune si prepara ad accogliere un boom di presenze turistiche. Occhi al cielo per vivere la magia degli spruzzi di luce che si rispecchino in laguna, ma i turisti che verranno a Venezia a San Silvestro per godere dello spettacolo pirotecnico e dei fuochi d'artificio rischiano una brutta sorpresa. Per evitare i probabili assembramenti di turisti nelle strette calli della laguna, che con una regnatela di masegni, i massi intracchite che disegnano il pavimento della città, conducono in Piazza San Marco il Comune Corso ai Ripari. Se si creeranno, come spesso accaduto in occasione degli eventi di maggior richiamo delle code o degli indasamenti, la Polizia Municipale potrà decidere in qualunque momento di istituire dei sensi unici. Lo scorso anno, nonostante il Covid, furono i 70.000 ad affollare le rive, più della metà dei quali stranieri che soggiornavano in centro storico. Ma quest'anno è possibile che il numero delle presenze sarà molto maggiore, complici anche le previsioni del tempo che danno su Venezia cielo sereno ed una impennata delle temperature. Vogliamo dare, sottolinea l'assessore comunale al turismo Simone Venturini spiegando il senso del provvedimento, l'immagine di una città sicura, due le ordinanze antifolla emanate dalla Polizia Municipale. Con la prima appunto si disciplina la viabilità nella città d'acqua. In particolare, dalle ore 20 di sabato 31 dicembre, i vigili urbani avranno la facoltà di dirottare il traffico pedonale e organizzarlo mediante le istituzioni di sensi unici e di temporanei obblighi e di vieti, facendo transennare dove necessiti ulteriore aree. Spostiamoci ora sulla sponda meridionale del Mediterraneo, terremoto socio-politico in Tunisia. Oltre il 90% della popolazione si è rifiutato di recarsi alle urne per le elezioni parlamentari convocate dal capo di Stato Cahis Syed, di cui ora la principale coalizione di opposizione ha chiesto le dimissioni. È bastato il solo annuncio da parte della Commissione elettorale del tasso di affluenza alle urne dell'8,8% per far gridare opposizioni e partiti politici al fiasco delle elezioni parlamentari e chiedere le dimissioni del presidente Cahis Syed. Le elezioni rappresentavano l'ultima tappa del processo politico iniziato da Syed il 25 luglio 2021, prima con la sospensione del Parlamento e la rimozione del governo, poi con l'approvazione tramite referendum il 25 luglio, di una nuova costituzione presidenzialista e il varo di una contestata legge elettorale. Un processo politico la cui legittimità popolare con una astensione del 90% viene messa fortemente in discussione. Per il presidente della Commissione elettorale, Farouk Boussaker, questo tasso modesto ma non vergognoso si può spiegare con la totale assenza di compravendita di voti con finanziamenti esteri, come avvenuto a suo dire nel passato. Motivazioni giudicate offensive che hanno avuto l'effetto di rinvigorire le opposizioni che già avevano boicottato in blocco il voto. In primis il fronte di salvezza nazionale, coalizioni dei partiti, tra cui l'islamico Ennada, il cui portavoce Ahmed Nejib Shebi, ha detto che quanto accaduto è stato un terremoto che avrà ripercussioni a medio termine estremamente pericolose sulla società tunisina. Tuttavia, su piedi di guerra ci sono anche l'appasionaria Abir Moussi del partito Destauriano Libero e il partito Affectun che chiedono elezioni presidenziali anticipate con una nuova commissione elettorale. La situazione è tuttavia in qualche modo bloccata perché non esiste alcun meccanismo legale per mettere sotto accusa il presidente nella nuova Costituzione e nemmeno il nuovo Parlamento a tale prerogativa. Parliamo di ambiente. Un accordo storico per la salvaguardia del pianeta è stato raggiunto ieri alla COP15 di Montreal. I paesi dell'ONU hanno concordato l'obiettivo di rendere area protetta il 30% del territorio e dei mari entro il 2030 quota che attualmente non supera il 17% e di risanare il 30% degli ecosistemi degradati. Inoltre si è deciso di stanziare ben 30 miliardi di dollari all'anno per aiutare i paesi in via di sviluppo nella tutela della natura. Natura che in Italia tuttavia troppo spesso lascia il posto al cemento. Secondo l'ISPRA nel nostro paese si perdono due metri quadri di suolo al secondo. L'Italia perde due metri quadri di suolo al secondo divorata soprattutto dal cemento. Nel 2021 la media è stata di 19 ettari al giorno, il valore più alto degli ultimi dieci anni come emerge dai dati. A lanciare l'allarme è il WWF. Ad oggi 21.500 km quadrati di suolo italiano sono cementificati e solo gli edifici occupano 5.400 km quadrati, una superficie pari alla Liguria. I danni sono sotto gli occhi di tutti. Un dissesto idrogeologico che provoca tragedie come quelle di Casamicciola e che dal 2000 al 2019 tra frane, valanghe e alluvioni ha causato nel nostro paese oltre 438 morti. Ma i servizi offerti dal suolo sono tanti, dalle produzioni agricole a quella del legname, dallo stoccaggio di carbonio al controllo dell'erosione, dall'impollinazione alla regolazione del microclima fino alla regolazione del ciclo idrologico. Nonostante queste funzioni importantissime, il suolo continua ad essere invaso e cementificato a livelli impressionanti. Come evidenziato dall'ISPRA, il suolo perso in Italia, la 2012 ad oggi, avrebbe garantito l'infiltrazione di oltre 360 milioni di metri cubi di acqua piovana che, restando sulle superfici impermeabilizzate da asfalto e cemento, non sono più disponibili per la ricarica delle falde, aggravando anche la pericolosità idraulica dei nostri territori. Sicurezza stradale. Rimane elevato il numero di conducenti in Italia privi di assicurazione obbligatoria sui propri veicoli, un'insolvenza che inevitabilmente grava in termini economici su tutti gli automobilisti rispettosi della legge. Ci sono quasi 3 milioni di conducenti, il 6% del totale, che girano sui veicoli senza assicurazione RC Auto in Italia. Un pericolo, oltre che un danno economico per tutti gli automobilisti onesti, i quali devono pagare il fondo di solidarietà che indennizza le vittime, altrimenti senza copertura, dei pirati dalla strada e appunto di chi guida senza assicurazione la stima, la fornisce il presidente dell'Ibas Luigi Federico Signorini in un workshop internazionale organizzato a Roma dall'ente che vigila sulle assicurazioni. Si tratta di un fenomeno noto alle compagnie e alle forze dell'ordine che in questi anni hanno messo in campo vari strumenti per contrastare il fenomeno ma che, assieme ad altri fattori, contribuisce a tenere alti i premi RC nel nostro paese. Storicamente l'assicurazione auto è sempre stata più costosa in Italia che in altri paesi europei, tuttavia nell'ultimo decennio i premi sono diminuiti in modo significativo, rileva Signorini. Il calo è stato raggiunto attraverso la maggiore concorrenza, le minori frodi, misure normative sul risarcimento e la diffusione delle scatole nere. Gli automobilisti onesti e prudenti ricevono oggi in media un trattamento migliore rispetto al passato, tuttavia le lacune rimangono, aggiunge, e sia il premio medio che il costo medio dei sinistri sono ancora più alti in Italia rispetto agli altri principali paesi europei, con differenze nord-sud cospicue. Prosegue l'andamento positivo per il mercato degli autocarri e dei veicoli trainati. A novembre le immatricolazioni sono cresciute di quasi il 10% su base annuale con rimorchi e semirimorchi pesanti che hanno registrato un incremento dell'8,8%. Era questa l'ultima notizia della giornata. Grazie per l'attenzione. Appuntamento domani alle 15 con il TG Flash e alle 19 con il TG News. Buon proseguimento di serata.